La cosa bella è che prima di essere ballerine siamo un gruppo di amiche. Noi siamo la Why Not Crew! La Why Not Crew è un gruppo di ballerine che si uniscono per condividere insieme la passione per il K-pop e per la danza. Il K-pop è un genere musicale che viene dal Sud Corea. Noi prendiamo i video di questi gruppi K-pop, ricopiamo le mosse e cerchiamo di creare una performance il più possibile simile alla loro. Ognuna di noi ha un background differente. C'è chi ha fatto K-pop, danza classica, ginnastica artistica, orton, modern jazz, ma anche nuoto, equitazione, balli latinoamericani e il K-pop unisce un po' tutti questi generi. Anche il nuoto? Equitazione? No, quelli no. Siamo campionesse in carica italiana di K-pop. Il gruppo è nato nel 2019 da una mia idea. Avevo 16 anni, stavo attraversando un momento difficile, mi sentivo sola e avevo bisogno di crearmi una casa dove sentirmi a mio agio e dove poter aiutare gli altri a stare bene. Piano piano si sono aggiunte tutte loro e siamo diventate queste. La strada è sia la nostra sala prove che il nostro palcoscenico, perché oltre a provare le coreografie, registriamo anche i video che poi pubblichiamo sui nostri social. Per noi è la prima volta su un palco televisivo e non vediamo l'ora di cimentarci in questa nuova sfida. Ciao!